eccolo qua facciamo un ciuffo una volta fino a una volta no c'è un ciuffo ragazzi facciamo questo in cazzo che ciuffesino c'è un ciuffo sono 38 dollari suori da pagarlo no chiesto voglio fare una foto? ok aspetta vado a prendere questa ciuffo è andato vedi che c'è ancora ciuffo soltanto che molla hanno messo qua tre volte no tre volte no tre volte no oh oh no è andato spelacchiato ciao ciao sono bello queste due uno e l'altro non si dice ci puoi andare a finire sono quei due chiodi lì i due pesandoni eh però hai visto che c'è ancora ciuffo ciuffo c'è ancora soltanto che ha cambiato lavoro prima stava il ciclo ma poi il pappagallino ma poi il pappagallo qua è andato è andato i due caccatori qua è andato è andato è andato è andato è andato take i 大尾 buon ee but ciao ciuffate un orecchio piccate voletevi bene Voleficato! 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 Volevi andare però! Non prendo lecchie! Come un cazzo! Voi dietro! Voi di qua! No! Che sta facendo? Niente! Volevo niente! Allora! Allora! Non guarda! Io veramente! Si tocca a noi! No! 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 Non si può essere abbastanza! E' stata tutta una vendetta cosa! Cioè mi è aumentato! Era 5,35! E' una vendetta di dollari! Dai! Allora va! 7! E' aumentato di 2 dollari! 2 dollari! Da 5 è passato a 7! 35 è una tasse! Eh! Ciao! E' bello! E' bellissimo! E' bello! E' bellissimo! E' bello! Eh! Ha perso! E' aperto! E' bello! Che cosa veniva? Inizio da 3? Si! Dai! Come va? Ve lo marco! Come si gonfia? guarda qui mi ha fatto la pappa dopo? no tumba? no si puoi venire anche tu? no perci puoi parare? bravo tanto che puoi sparare